Ben trovati con l'ormai consueto appuntamento con Sfida Yolanda! Unibet ti dà la possibilità di confrontarti con me con una multipla e ricordati che puoi sbizzarrirti come vuoi ti puoi dedicare alla Bundesliga, alla Premier, alla Ligue 1 L'importante è scegliere tre partite e questi sono i miei match Ho deciso di partire dalla gara degli uomini di Max Allegri contro quelli di Luis Enrique e poi ci spostiamo a quello che accadrà tra il Bayern Monaco contro i Blancos di Zidane ed infine ho scelto la gara tra Atletico Madrid e Leicester e anche per questa settimana il mio guanto di sfide è lanciato Ora tocca a voi!